Non ha giocato bene e ha pareggiato nell'ultima partita contro il Frosinone, ma tra le squadre più in forma del nostro campionato c'è il Bologna che nelle ultime dieci partite ne ha vinte otto, pareggiata una e persa una. Dopo 31 giornate i rosso-blu sono quarti con 58 punti e considerando che secondo i calcoli di Nils Mackay Data Scientist di Opta al 96,9% anche la squadra che arriverà quinta andrà in Champions è arrivato il momento di farci una domanda che mai e poi mai mi sarei aspettato di porre e cioè ma davvero l'anno prossimo il Bologna potrebbe giocare la Champions? Questo è il terzo uomo, vamos! Qui con me ci sono, ciao sono Akpa, ciao Charlie Ciao Gab, ciao a tutti, ben ritrovati Stasera siamo senza Michele Tossani che è impegnato in un corso per rinnovare il patentino da allenatore ma per la prima parte della puntata abbiamo un grande ospite per due motivi Il primo è che non è toscano e quindi dopo non so quanti secoli torniamo a registrare una puntata interamente senza accenti toscani E il secondo soprattutto è che quest'ospite è Matteo Pilotto, la persona dietro calcio datato che potete seguire sui vari social e che da quando è tornato ha lanciato anche una newsletter a cui vi consigliamo di iscrivervi Ciao Matte, grazie per essere qui Ciao, grazie a voi Partiamo subito dal Bologna e vado subito con una domanda Charlie, quali spunti ti hanno lasciato questi ultimi due mesi di rosso-blu? È un Bologna che ha preso forza, fiducia, consapevolezza nei suoi mezzi ed è passata dall'essere secondo me una piacevole sorpresa a inizio stagione a una realtà consolidata Una squadra che oggi è meritatamente tra le prime quattro nel nostro campionato Credo che lo switch mentale sia avvenuto soprattutto nel secondo tempo a Bergamo perché quella è stata una vittoria sì fondamentale per la classifica Però anche fondamentale per il gruppo dato che a inizio 2024 il Bologna aveva avuto una serie di passi falsi Poi c'era stata la bella rimonta in casa contro il Sassuolo e poi appunto quella vittoria in casa dell'Atalanta che comunque aveva un rendimento fin lì molto buono Ha dato ancora più fiducia, più forza al lavoro di Motta Questa è una squadra che oggi ha un calcio facilmente distinguibile con il palleggio molto elaborato, molto fluido Che coinvolge entrambi i centrali, anche in zone avanzate, soprattutto Calafiori Però anche Lukumi per esempio nelle ultime settimane sta svolgendo abbastanza bene questo ruolo alla John Stones diciamo Poi davanti Zierks è sempre la stella polare di questa squadra per lo sviluppo nell'ultimo terzo E poi a livello realizzativo senz'altro Solini sta facendo bene Anche se la Mekes nelle ultime settimane ha fatto abbastanza bene Fabian è stato tra i migliori giovani nel nostro campionato e quindi di spunti ce ne sono davvero tanti La cosa che mi ha impressionato, avendo anche avuto la possibilità di vederli in un paio di occasioni quest'anno È la grande intensità che questa squadra ha in fase di non possesso È una squadra ovviamente molto intensa, molto aggressiva nel recupero della palla Ma non tanto nel recupero della palla, forse più nella fase di regressione Perché è proprio quella secondo me la grande forza di questa squadra La capacità di reaggredire e stare sul pezzo Anche a Empoli per esempio avranno fatto un'ottima partita da questo punto di vista Però proprio nelle partite casalinghe si vede ancora di più la volontà di questa squadra Di imporre un dominio sia dal punto di vista del palleggio che dal punto di vista territoriale E in questo secondo me Freuler sta facendo un campionato piuttosto sottovalutato Quindi finora gli spunti sono più che positivi La classifica è ottima nonostante il passo falso di domenica E io credo che anche alla luce dello scontro diretto che ci sarà a breve con la Roma Potremmo avere ancora più indicazioni che il Bologna potrà qualificarsi per la Champions l'anno prossimo Metto un piccolo asterisco sul discorso giusto che facevi riguardo i centrali Cioè che spesso Calafiori, Lukumi ma anche Beukema Uno dei due si alza sulla linea di centrocampo Tu gli hai detto alla John Stones Io però metto un asterisco perché se nel City questa cosa è abbastanza statica e permanente Cioè Stones quando il City è in fase di possesso palla si alza lì e rimane lì Nel caso del Bologna c'è maggiore fluidità cioè in un'azione magari si alza Calafiori In quella dopo magari si alza Beukema Cioè sono dei centrali, sono dei movimenti molto fluidi Magari il centrale al pallone la passa al centrocampista, la passa a Freuler E poi si sgancia in avanti per dare un'ulteriore linea di passaggio al giocatore che ha appena ricevuto il pallone Quindi anche in questo discorso spesso si parla calcio posizionale da una parte, quello di Guardiola Calcio relazionale dall'altra Ci sono state anche discussioni sul web in questi mesi Discussioni che a me interessano relativamente poco perché spesso si parla più di teoria che di pratica Si parla spesso di teoria e poco di cose concrete Ecco nel caso di Tiago Motta, nel caso del Bologna siamo un po' in una via di mezzo Perché appunto c'è fluidità, c'è maggiore fluidità rispetto al classico gioco di posizione di un Guardiola Parlavi di Salem Hackers che secondo me è una grande sorpresa perché sta facendo una grandissima seconda parte di stagione È vero che nell'ultima con Frosinone ha giocato male però poi nelle gare precedenti aveva fatto veramente bene con l'Empoli Aveva fatto se non ricordo male sette tiri assistiti in tutta la partita Nella gara successiva aveva fatto un gol pazzesco con la Salernitana Insomma sembra quasi un piccolo Neymar in alcune prestazioni per i suoi dribbling, i falli che guadagna, le giocate che tira fuori Matte, la tua sul Bologna? Sì, avendo tutto si può dire qualcosa su Zirzi magari perché poi ovviamente avere lui come punta Riesce, ti aiuta un po' a compensare magari alcuni dei limiti che puoi avere la squadra, la rifinitura Perché non c'è tantissima qualità poi quando arrivi sulle altre quarti Salem Hackers ha inciso sì però secondo me soprattutto anche Pallalpiede Orsolini un altro giocatore Pallalpiede poi quando ha inciso molto a livello realizzativo Ma quando si tratta poi di rifinire non è sempre lucidissimo Insomma non hanno dei fenomeni davanti al centrocampo che possano aiutare a creare delle occasioni O magari a rompere blocchi bassi Quindi avere un giocatore come Zirzi se guardiamo le partite con l'Atalanta Anche la partita simile come diceva Charlie l'importante è quella vittoria a Bergamo Secondo me prima di quella, quella è stata quella che ha consolidato Ma prima di quella la vittoria a Roma con la Lazio Dopo che la Lazio ha fatto un gran primo tempo Invece il Bologna comunque ne è uscito fuori E è uscito fuori sempre giocando la sua maniera Con i suoi principi e con i suoi interpreti E quindi il contributo di Interzè oltre appunto al numero di gol Il numero di assist è proprio entra dentro una manovra in maniera significativa Per come si muove, per tutti quei movimenti Fa come legge lui gli spazi, come legge i movimenti dei compagni e degli avversari Quindi è fondamentale L'unica cosa che fa venire qualche dubbio se si qualificassero in Champions È che con che squadra si qualificherebbero in Champions Tiago Motta non si sa se rimane Probabilmente no Zirzi ormai se lo stanno contendendo un po' tutti Adesso si incomincia a parlare anche di Calafiori Può andare via Tosta Incomincia a diventare Vai a togliere proprio colonne Vai a cambiare tutto Se partono questi tre personaggi Ma anche solo Motta e Zirzi Assolutamente Sicuramente la dirigenza ci sta già pensando Sta facendo le sue valutazioni Però giustamente si staranno anche un po' Vivendo questo grande momento del tutto inaspettato Perché penso nessuno sulla faccia della terra Nemmeno il tifoso più ottimista Si sarebbe mai e poi mai aspettato un Bologna al quarto posto dopo 31 partite Magari dopo 10 ci poteva stare Perché dici la sorpresa Io sinceramente mi aspettavo che calassero Che arrivassero magari i settimi, ottavi, noni Invece sono ancora lì E sono lì con merito E sono una squadra che al di là dei giocatori più forti Al di là dell'organizzazione tattica È una squadra che dal punto di vista mentale Dal punto di vista psicologico c'è sempre Perché in tante prestazioni, in tante partite Magari nel primo tempo non facevano benissimo Ma poi nella ripresa riuscivano a rimontare e a vincere Tu giustamente citavi quella con la Lazio Quello è stato un perfetto esempio Ma anche quella con l'Atalanta Anche con l'Empoli dove non stavano giocando benissimo Però col passare dei minuti, col passare del tempo Sono riusciti a incrementare la qualità del loro gioco Ad aumentare le occasioni e poi giustamente a vincerla Se posso muovere una piccola critica a Motta È che a volte fa delle scelte di formazione iniziale Che non sempre mi convincono Perché ultimamente no Però un mesetto fa, due mesetti fa Troppo spesso secondo me faceva giocare Urbansky titolare A volte o largo a sinistra O come trequartista vara mezzala È sicuramente un giocatore interessante Che sarà da tenere d'occhio nei prossimi anni Perché può svilupparsi bene Però da qui a fare il titolare In una squadra che lotta per arrivare in Champions Mi sembra un po' troppo Mi è sempre sembrato un po' indietro Rispetto alle richieste dell'allenatore Rispetto agli altri giocatori Anche perché poi spesso in panchina Ci è andato Orsolini Penso con l'Inter, penso con l'Empoli Quando invece è un giocatore che io vorrei avere Avere sempre in campo Perché appunto sta facendo una grandissima stagione Sì, Urbansky da questo punto di vista Non ha sulla carta l'esplosività Che può avere Orsolini O lo stesso Ondoje Non è un esterno a tutti gli effetti È un giocatore abbastanza adattato In quella posizione Però è sì vero che Quando gioca lui a livello puramente qualitativo Il Bologna fa un po' un passo indietro Volevo aggiungere due cose Uno tornando a quello che accennava Matte Sulla fase offensiva di questa squadra Perché è vero che è una squadra che Numera la mano non crea tanto A livello di occasioni pulite È una squadra che ha Deve valori di possesso palla molto alti È seconda in campionato detto al Napoli È una squadra che arriva anche Abbastanza frequentemente al tiro Però se guardiamo Che spetta il goals La qualità dei tiri non è particolarmente elevata Io credo che è un po' un limite che c'è in questa squadra Al di là dei profili che Chiaramente non sono dei rifinitori Zigze è sicuramente quello che si carica di più Il peso creativo addosso Magari Ossolini Le situazioni di pallina attiva Però è una cosa che potrebbero fare Per migliorare la produzione Anche quando arrivano Ad assestarsi nell'ultimo terzo Secondo me a volte sono troppo statici Nel senso hanno tanti giocatori che vogliono Palla sulla figura Perché Ossolini Riceve abbastanza da fermo Zigze è uno che ama venire in conto Saramè che è comunque uno che preferisce Venire in conto Anche Ferguson viene in conto Per attivare il da e vai Avrebbero bisogno magari di Qualche corsa in più in profondità Per abbassare la linea E trovare più spazi E avere anche modo di Facilitare le embucate Perché poi è chiaro che Se Zigze riesce a Ricevere palla Proteggerla, girarsi e giocare A fronte alla porta Poi ti può mettere La tu per tu E credo che in questo senso Anche l'inserimento di Fabian Tra i titolari Sia stato d'aiuto Perché comunque lui è un giocatore Da un certo punto di vista Un po' un doppione di Ferguson Però è più offensivo Più che Ferguson Magari ricorda un po' Frattesi Proprio per la sua verticalità Nell'attaccare lo spazio Io credo che quando c'è stato Da titolare Quando hanno avuto Lui e Ferguson Davanti a Freud Piuttosto che Ebischer e Ferguson La squadra Da questo punto di vista Ne ha beneficiato Proprio a livello di presenza Offensiva E di occupazione dell'area E la seconda cosa Invece che volevo Brevemente citare Abbiamo parlato Dei centrali Che stanno facendo bene Però menzionerei anche Skolupski Che in porta È stato molto importante Per questa squadra È stato importante Lo scorso weekend Col Fosinone Soprattutto nel primo tempo Dove la squadra di Francesco Ha giocato Una grande partita Molto intensa Molto aggressiva È stato importante Nel finale contro il Verona È stato decisivo Nella partita Contro la Lazio Nel primo tempo Dove Insomma avete detto voi Il Bologna ha sofferto E quindi c'è anche questo Da menzionare Poi lo stesso Ravaglia Quando è stato chiamato In causa Si è fatto trovare pronto Per cui Anche la capacità Secondo me di Motta Di coinvolgere Tenere attivi E partecipi Anche i giocatori secondari Sta facendo la differenza Perché Brogno non ha Una cosa particolarmente lunga Però il fatto che Tutti comunque Riescano A dare A contribuire Quando sono chiamati in causa È sicuramente Un'ottima notizia Per questa squadra Assolutamente Aggiungo Giusto Un dato Dal punto di vista Difensivo Il Bologna Secondo I dati di Opta È la terza Miglior difesa Nel nostro campionato Per quanto riguarda Gli expect Del gol sconcessi Rigori esclusi Dietro soltanto A Inter e Juve A pari merito Col Torino Si parla Tanto Della fase Di possesso Balli Di questa squadra Però Il più grande Punto di forza Secondo me possiamo dirlo È la La grande fase Difensiva In tutti i suoi aspetti Perché Questa squadra È veramente Ma veramente Tanto solida E tra l'altro Usa anche il possesso Palla a volte Come arma Tattica difensiva Per Per rallentare il ritmo Gestire il pallone E smorzare 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 l'avversario Se leggiamo la classifica In questo momento Come dicevo Nell'introduzione Bologna Dopo 31 partite Ha 58 punti 3 in più Della Roma Che è Quinta 55 E 8 in più Della Atalanta Che è Sesta A 50 Anche se La Dea Ha una gara in meno Perché deve Recuperare quella Con la Fiorentina Non ti chiedo Un pronostico Matte Perché non sono cattivo Però come Come vedi La corsa Al quarto Quinto posto Quindi Allargando Anche un pochino Il discorso Su Roma E Atalanta È difficile La Roma Ha un calendario Super difficile Secondo me Perderà Parecchi punti Da qua alla fine Quindi secondo me La Roma Se la gioca Con l'Atalanta Per il quinto posto Perché Anche Anche se comunque Hanno avuto Un rendimento Ottimo Dal punto di vista Di come gestiscono Le partite Delle mentalità Di come giocano Però comunque Guardavo anche Altro giorno Ho segnato Tanti gol In più Di quelli Che erano Leciti ad aspettarsi Tante partite Hanno portato via Punti Quando magari Dovevano portarne Via di meno Hanno vinto A Frusinone Anche a Firenze Comunque sono riusciti A portare via un punto Secondo me La Roma Da qui in poi Farà un po' Più fatica Anche perché comunque Ci sono le coppe I giocatori Che sono Insostituibili Non sono giocatori Che hanno la gamba Per fare Già Adesso giocano Giovedì Domenica Vanno a Udine Con l'Udinese Che fa di tutto Per non tirare in porta Però voglio dire Comunque Poi Ciofi dice Abbiamo perso Una partita sfortunata Se non tiri Neanche in porta E quindi Secondo me La Roma È difficile Considerando quello Che ha fatto Fino adesso Considerando quello Che deve fare Da qui in avanti Davvero dura Però anche l'Atalanta Avrà partite Molto dispendiosi In Europa Però secondo me L'Atalanta Quasi è una rosa Più profonda Della Roma Non tanto Dal punto di vista Magari generale Però Può cambiare Tanti uomini In certe posizioni Magari più dispendiose Soprattutto davanti Ha tanta Tanta profondità E quindi Secondo me Sarà Difficile Per la Roma Riuscire a mantenere Questo passo Tra l'altro La terza e ultima giornata Atalanta e Roma Si affrontano A Bergamo E sarà una partita Super interessante E niente Sono d'accordo con te Vedo Le stesse criticità Per quanto riguarda La Roma E Comunque Insomma Le coppe Sicuramente peseranno Perché un conto è Uscire E un conto è Andare avanti E vederti Risucchiare Ulteriori Ulteriori Energie Parlavamo della corsa Per la Champions Beh Passiamo a parlare Di chi la Champions La sta giocando Ieri ci sono state Due partite Molto molto interessanti Due pareggi Iniziamo da Real Manchester City Finita 3 a 3 Inizio Parlando brevemente Di una cosa Un po' laterale Però secondo me Comunque rilevante E interessante Cioè le prestazioni Dei due portieri Perché Lunin Ovviamente lo sappiamo Ormai sono mesi che è il titolare fisso e indiscusso del Real Madrid Perché Courtois si è infortunato Prima inizio stagione È rimasto fuori tanti mesi Poi Quando sembrava che stesse per rientrare Si è infortunato all'altro ginocchio E quindi rimarrà fuori Per tutta la stagione Il Real A fine agosto Prese Kepa In fretta e furia Proprio dopo l'infortunio del Belga Per fargli fare il titolare Ma Lo spagnolo non ha convinto E quindi Il suo posto al titolare L'ha preso Lunin Che sta facendo una grandissima stagione Protagonista assoluto in Liga Protagonista anche agli ottavi Contro Illipsia Ieri però Sul primo gol di Bernardo Per quanto Bernardo Sia stato Molto bravo Molto furbo A calciare la punizione Direttamente in porta È evidente che ci siano anche Delle colpe Da parte del portiere Che Da una parte Poteva essere più reattivo Poteva posizionarsi meglio E dall'altra Probabilmente avrebbe dovuto mettere Un secondo uomo in barriera L'altro portiere Invece Ortega Quest'anno ha giocato Ovviamente non tantissimo Perché è il titolare nelle coppe E ha giocato la titolare Le ultime partite Per via dell'infortunio di Ederson Nella gara contro Liverpool Ederson era in panchina Ma come dichiarato Da Guardiola Non era al meglio Quindi ha preferito Far giocare Ortega E sul secondo gol Cioè quello di Rodrigo Che si è trovato A Diciamo A tu per tu con lui Secondo me Poteva fare meglio Perché il tiro di Rodrigo Era molto lento È vero che è stato deviato Però La deviazione Secondo me Non è stata così impattante Era un tiro talmente lento Che secondo me Con la reattività giusta Si poteva parare Però perché Ortega Non l'ha parato Perché Da qualche anno ormai La maggior parte dei portieri In queste situazioni Non prova a parare Di reattività Ma prova a parare Di posizione Cioè Prende una posizione Che rimane fissa Con l'obiettivo Di oscurare Il più possibile Lo specchio della porta Agli avversari Solo che però Se c'è una piccola deviazione O se l'avversario è bravo A tirare preciso Non necessariamente forte Ma soprattutto preciso Allora poi La palla spesso va In rete Era un discorso interessante Che secondo me Aveva fatto Marcheggiani In Ascari Qualche mese fa Parlando di Magnan E di un suo errore Nella gara contro Il Frusinone In cui anche Il portiere francese Aveva provato A parare di posizione E poi aveva subito gol Per carità Sicuramente Parare di posizione Ha i suoi pregi Assolutamente Però al tempo stesso Ha anche i suoi difetti Perché appunto Se c'è una deviazione O se il tiro È preciso Ma non tanto forte Il portiere In quelle situazioni Lì prende Prende gol Comunque Al di là di questa nota Margine Matte Parto con te Che gara è stata E come giudichi Insomma La prestazione Delle due squadre Una partita che Secondo me Per le reazioni Che ho visto un po' in giro Ha portato A una Prospettiva Che secondo me È un po' lontana Da quello che si è visto in campo Il risultato Anche in questo caso Ha portato a reazioni Che Secondo me Sono un po' esagerate Rispetto Al 4-3 Di due anni fa O anche Alla partita di ritorno Sempre di due anni fa O vabbè Il 4-0 D'anno scorso Tutto un'altra roba Però non è Non è stata la stessa partita In cui Le due difese Facciano fatica A controllare A limitare L'occasione avversaria Secondo me È stata una partita Abbastanza Controllata In cui si sono inseriti Degli eventi O straordinari O delle situazioni Come Il gol di Rodrigo Comunque Magari Sicuramente si poteva fare Meglio a livello difensivo Da parte del City Però non era facilissimo A gestire Perché era partita Dentro A sua metà campo Oppure I primi Cinque minuti Con quelle due Dopo il gol Con Real Madrid Che ha sofferto Il City Ha creato Quell'occasione Di Holland Ma in generale Comunque Secondo me C'è stata Questa Ricerca Del controllo Da parte Di tutti I due L'allenatori Poi in tanti Hanno parlato Di questa posizione Di Rodrigo Che ha giocato Largo A sinistra Con Vinicius Un po' Più interno Secondo me Non è stata tutta Questa grandissima Novità Che ha cambiato Così tanto Il percorso Della partita Però è chiaro Che poi Quando nasce Con un gol Nasce Con la combinazione Fra loro due Da risalto Sicuramente Il City Quando va a giocare A Madrid Come l'anno scorso Cerca Di rischiare poco Secondo me Il fatto anche Che Holland Si è stato Coinvolto Così poco Non ha fatto Una bella partita Anche quando Magari Il City Cercava di andare Su lui Un paio di volte Rubendia Si è stato trovato Una bella soluzione Ma lui si è fatto Anticipare Da Rudiger Non ha fatto bene Non è Sicuramente Il suo Però a volte Secondo me Holland Va sacrificato Finisce per essere Sacrificato Anche perché Viene utilizzato In un'altra maniera Nel senso La maniera in cui Viene utilizzato È la stessa Però Il rendimento Che dà sulla partita Non è sempre Attraverso gol Attraverso Attraverso Assist Ma soprattutto gol È più che altro Per Tenere occupati I centrali Per le cose Che fa in profondità Per la minaccia Che va a correre Quindi quando Pepp Prepara certe partite Le va a pensare Come si può andare A massimizzare La possibilità Di andare a fare gol Senza perdere Troppo controllo Non è che si Preoccupa di Oggi Holland Deve fare gol Deve avere tre occasioni Poi ovviamente Una partita di ieri C'è C'è un contesto Di una prestazione Magari non ideale Però Però Il risultato Sul risultato Pesano fortemente Diciamo Soluzioni Iniziative Individuali Una cosa Che ho notato Io Quando il City Riusciva A muovere Pala Da sinistra Da destra E muoverla Con velocità Magari trovando Foden Nel mezzo spazio Destra Il Real Che aveva I due Strocampisti E Cross In generale Che doveva Scivolare Verso l'alto Faccia un po' Fatica Era lì Magari guadagnava Un tempo Qualche metro In più Per andare in avanti Guadagnare campo O muovere la palla Se invece il City Muoveva palla In maniera un po' Più lenta Più statica Faccia fatica Poi a crearsi Dei presupposti Per entrare Nell'area del Real Mi hai spoilerato Quello che volevo Giusto Accennare Di questa partita Che era proprio La gestione Del terzo centrale Di campo Perché anch'io Tra l'altro Io l'ho guardata Indifferita stamattina E sono d'accordissimo Con voi Nel senso A leggere i social Si è parlato Di partita Folle Sguarda lunghe A me è sembrato Che ci siano state Situazioni di squadre lunghe Soltanto nei primi Dieci Forse quindici minuti Ma neanche in realtà Più nella fase Dei due gol Ecco Iniziali Senza le grandi giocate Cioè Gli ultimi tre gol Sono tre gol Della madonna Sì Questa partita Poteva finire tranquillamente 0 a 0 O 1 a 1 Anche perché se guardiamo Gli expert del goals Che non mentono mai Come si dice XG don't lie Il city ha creato 0,83 XG E il real 0,63 Cioè questa è una partita Appunto Da 0 a 0 1 a 0 0 a 1 1 a 1 Come diceva Matte prima È finita 3 a 3 Perché ci sono stati Degli episodi Degli eventi Abbastanza straordinari Quindi Non hanno proprio senso E le critiche Di chi dice Calcio pazzo Partita pazza A mille occasioni Non è stato assolutamente così Sì Infatti Si sbaglia Secondo me A mettere questa partita Sullo stesso piano Guardando solo Il numero di gol Di quello che Può essere stato Un Chelsea Manchester United Di qualche giorno fa Quella si è stata Una partita Pazza Disorganizzata Sembravano I bambini Che giocano Al campetto No Comunque Io Cioè Vedendo la partita Con calma Anche in maniera Più distaccata Ho notato Un canovaccio tattico Alla fine In linea Con quello Che mi aspettavo Il City Che cercava Di controllare I gesti I ritmi Quando Teneva palla Provando magari A schiacciare Il Real Però è anche Prudente Nel coprirsi Rispettando anche La qualità Ovviamente Dei padroni Di casa Però lo stesso Real Quando ha avuto Situazioni di possesso Consolidato Non è che abbia provato A forzare Più di tanto Le giocate Sì ha avuto Un paio di transizioni Nel primo tempo Con Vinicius E Rodrigo Però in generale È una squadra Che si affidava Che si affidava molto A cross Come sempre Per non forzare Non allungarsi A sua volta E tornando appunto Alla gestione Del terzo centrale Mi ha fatto Incuriosire Questa scelta Di mandare Cross Quasi a uomo Su Foden All'interno Proprio vantaggio Foden è andato A giocare Sul lago Però ecco Mi aspettavo anche Con i centrocampisti Qualche corsa in più Nello spazio Qualche inserimento Magari Stones E Kovacic Per caratteristiche Non hanno questa tendenza Però le volte in cui Il City L'ha fatto Secondo me Ha fatto vedere Che il Real Non era tanto preparato Alla fine A gestire E coprire Lo spazio Tra i centrali E i centrocampisti Perché Anche il gol Di Foden Per esempio Nasce da una ricezione Abbastanza libera A ridosso Delle aree di rigore Anche il gol Di Vadiol Il centrocampo Del Real È stato lento Reattivo A chiudergli L'opzione di tiro Quindi secondo me Il City Forse un po' più Minaccioso Senza palla Magari con De Bruyne Al posto di Foden Avrebbe potuto Sfruttare di più Questa cosa Avrei voluto vedere Un po' più di movimento Senza palla Nella zona centrale Anche perché Hollande Come diceva Matte Non ha fatto Una bella partita Chiaramente Rudiger l'ha bullizzato Sperto nei rinvii Dal fondo Quando Ortega Provava sempre a cercarlo Però considerando Che alla fine Riusciva a impegnare Sia Chouameni Che Rudiger Secondo me Qualche movimento In più alle spalle Di Kamavinga Poteva far male Quindi credo che Il City Avrebbe potuto Sfruttare meglio Questa superiorità In zona centrale E secondo me Avrebbe potuto Sfruttare meglio I cambi Visto che Insomma Vabbè Su Guardiola Il rapporto Con i cambi Si potrebbe scrivere Un libro Di 500 pagine Credo Poi non so In quanti Lo leggerebbero Però Guardiola Ieri Se non si fosse Infortunato Foden All'86 Mi sembra Con l'ingresso Di Alvarez Avrebbe fatto L'ennesima Grande partita Senza cambi Cosa secondo me Sbagliata Poi per carità Io sono qui A parlare In un piccolo podcast Guardiola È forse Il migliore allenatore Al mondo Però Al di là Di questioni tattiche Al di là Della questione Del controllo Perché insomma Si sa Guardiola Vuole avere Il controllo Totale Sulla partita E tanto più Vuole averlo Contro una squadra Pazza come Real Madrid Che ha giocatori Come Vinicius Rodrigo Brian Diaz Bellingham Che possono fare Cose Pazzesche Fuori dal nulla Però Il City In panchina Aveva dei giocatori Che potevano essere utili Al di là Di Alvarez Stesso Che secondo me Meritava di entrare Un po' prima Perché Sia Bernardo Che Foden Sono andati Un po' A fasi alterne Secondo me Con Doku In campo Il City Sarebbe stato Molto più pericoloso Cioè Un Doku Negli ultimi 20-25 minuti Secondo me Poteva creare Grossi problemi A Real Madrid E invece Non lo ha messo Ora io non so Se Guardiola Veramente non fa cambi Perché vuole avere Il controllo O se c'è anche Un po' di scaramanzia Nel mezzo Perché ormai Viene da pensare Vengono da fare Tutte le ipotesi possibili Però ecco Avrei messo Un po' prima Alvarez E soprattutto Avrei messo Doku Secondo me Doku Non l'avrebbe messo Però Perché Alla fine Grealish Ha fatto un Buon lavoro A livello difensivo Cioè Quando Real Comunque provava A settarsi Spesso Grealish Abbassava in linea Con la difesa Spurmava una difesa 5 Secondo me Questo tipo di lavoro Non lo puoi chiedere A Doku Per caratteristiche Perché è uno Più offensivo Poi sì Magari a livello Di uno contro uno Qualcosa Avrebbe fatto In più Sicuramente Rispetto Ai giocatori Di supporto A Oran Però io credo Ecco che Nell'idea Di controllo Non fosse sbagliato Tenere Pareggio Assurdo Di Valverde Sia stata Abbastanza nettamente La scuola migliore Cioè ha avuto Un certo controllo E Real Mi sembra Abbia avuto Anche più difficoltà Nei ripartire Perché poi A parte Vinicius Bellingham Per esempio Non ha fatto Una bella partita Secondo me Cioè sono state Più le volte Le volte in cui Si è visto a terra Che nell'area Di rigore avversaria E sì Vinicius È stato illuminante L'assist per Rodrigo Poi ha apprezzato Anche l'assist Per Valverde Però pure lui Magari ha perso Un po' di palloni Nelle fasi Di ripartenza Quindi Cioè È un real Che è stato comunque Sempre sul pezzo A livello Psicologico Vabbè È real Quindi ce l'aspettiamo Ci hanno vinto Una Champions Due edizioni fa Così Quando sembravano Spacciati Mi sembra una squadra Che proprio dal punto Di vista mentale Fosse preparata meglio Però ecco Non Non riusciva In quella fase A ripartire A rialzarsi Poi chiaro L'ingresso di Modi Ci ha dato anche più Vivacità Più Inerzia positiva Nel finale Per cercare A guantare il pareggio Però per esempio Anche subito dopo Il gol di Bernardo È una squadra Che ha cercato Di attaccare Ma in In linea generale Non si è sbilanciata Così tanto Di perto Come magari Possiamo Posso aver letto Sentito In giro Dopo la partita Secondo me Quando attaccava Difesa schierata Il Real Poteva provare Qualche cambio gioco In più Su Carval Perché Faceva tanta densità Sulla sinistra E al centro Ovviamente Perché c'era Rodrigo che partiva Largo a sinistra Vinicius che Giocava Diciamo Da centro avanti Anche se poi Naturalmente Si defilava Spesso Bellingham Tende a giocare O al centro Su centro sinistra Anche Valverde Che in questo 4-2-3-1 Faceva Diciamo Il finto esterno Perché poi Aveva sempre I soliti compiti Più da mezzala In fase di possesso Palla Che da esterno Ecco Con il Real Che faceva tanta densità Da quel lato Secondo me Qualche cambio gioco In più Su Carval Ci poteva stare Quanto meno Per diversificare Un po' Il modo Di attaccare In ogni caso Credo che il pareggio Sia risultato più giusto Perché Non mi sembra Ci sia stata Una squadra Direttamente migliore Dell'altra Ci sono stati Momenti In cui magari Il Real Ripartiva meglio Ed era più pericoloso Altri in cui Il City attaccava E riusciva Ad arrivare Più spesso Nei pressi dell'aria Però Alla fine È stata una gara Equilibrata In cui Ripeto Secondo me Il pareggio È il risultato più giusto Prima di Cambiare partita Vi chiedo Che è stato Secondo voi Il migliore in campo Pensandoci Ci ho pensato Perché sono stato Un po' in difficoltà Sinceramente A scegliere Un po' Un man of the match Perché credo Che magari In senso assoluto Probabilmente Non c'è stata Una prestazione Che vada Oltre un Sei e mezzo Diciamo Lato Real Si può premiare Rudiger Per la prova Su Holland Anche Cross Comunque alla fine Difensivamente È stato attivo Ha avvato bene Io nel City Voglio premiare Gwardior Perché a livello Difensivo Ha fatto un'ottima partita Non ho sbagliato Niente A livello Di participazione È stato coinvolto Magari non si è sganciato Tanto Lo stesso a Kanji Perché chiaramente Non voleva scoprirsi Più di tanto E alla fine Non è qualcosa Che i braccetti Del City Fanno così tanto Ecco Rispetto magari Ai braccetti Nell'Arsenal Però Ha gestito bene La palla È stato bravo A trasmetterlo Anche magari Giocando un po' Più interno Per esempio Nel primo tempo Per isolare Grilis In situazioni di uno contro uno Quindi Poi ha fatto Vabbè Un gol bellissimo Tra l'altro Mi sembra Caressa Era un po' Scazzato Perché ha tirato Di destra Quasi come se non Dovesse tirare In quella circostanza Però Sì Un gran bel gol Quindi io premio lui Come Man of the match Sì Per me Anche per me Guardi A me è piaciuto Anche Ruben Dias Ci sono state Un paio di situazioni In cui Era lì O Prendeva un arancione O O salvava L'occasione Le ha fatte Le ha salvato Spesso La situazione Anche Anche Con Con la palla Tra i piedi Ha fatto abbastanza bene Poi magari Non è sempre Stato sfruttato Il passaggio Però secondo me È stato abbastanza Sul pezzo Considerando anche La minaccia Dei tre Che aveva davanti Cosa ti aspetti Al ritorno Matte? Ricordo che Ciò a Menì È squalificato Ciò a Menì Che ieri È giocato La difensore centrale Quindi insomma Ancelotti Al fianco di Rudiger Dovrà mettere O il sempreverde Nacio Oppure Lanciare Militao Che è tornato Da poche settimane Dall'infortunio Ma Io Ho visto Ho visto Entrambi I siti Da Madrid Allo stadio L'Etihad Gli ultimi due anni Sono le uniche tre partite Dell'anno In cui l'Etihad Fa rumore Sono i quarti di Champions Finale di Champions E il derby con l'United Tre partite all'anno E le prestazioni Del City Mi hanno sempre Impressionato Per l'intensità Per come Riuscisse a mettere Sotto il Real Veramente In una maniera Al top Del top Forse le migliori Prestazioni Queste del City Le ho viste fare Soprattutto con Con la palla Contro il Real All'Etihad Quindi secondo me Tanti dicono Parlano del Real Real in Champions Ha costruito il suo percorso Soprattutto con le partite Al Bernabeu Fuori casa Ha spesso fatto fatica Secondo me Il City è Molto favorito Poi quando hai quei giocatori lì Può succedere di tutto Però io Penso che sia Il City Favorito Passiamo a Arsenal Bayer Monaco Finita 2-2 La scorsa settimana Non è uscita nessuna puntata Del terzo uomo Per il semplice fatto che La puntata in realtà L'abbiamo fatta Perché Parlare per un'ora Un'ora e un quarto Di calcio Abbiamo parlato Il piccolo problema Il piccolo particolare È che Ci siamo dimenticati Di schiacciare Quel tasto Con il pallino rosso E con a fianco scritto Scritto rec Però Non ne avete la controprova Però potete fidarvi Di noi Charlie Nella preview Di Arsenal Bayer Ne disse che La gara di andata Sarebbe finita 2-2 Con Gol di Gnabry Kane da una parte Mentre Dall'altra Di Saka E Di Trossard Ne ho entrato Dalla panchina E quindi Complimenti Charlie Per averci preso E poi dai Parti pure te Con Cosa pensi Di questa gara No vabbè Il punteggio Marcatore esatto No Però Questo è vero Avevo detto Che il Bayern Ragazzi Il Bayern Rimane comunque Il Bayern Il fatto che Stia avendo una stagione Sottotono In Bundesliga Non scredita La qualità Di questa squadra E Il fatto che Alla fine Sono all'ultima spiaggia Perché rischiano Di non vincere nulla Dopo Gli investimenti Dopo l'arrivo Soprattutto di un pezzo La 90 Come Kane In attacco Le motivazioni La componente Psicologica Poteva Dire la sua Poi Banalmente A livello Di indurialità Nonostante L'Arsenal Quest'anno Abbia Una delle migliori Nella prima fase Ha preso forza Ha preso fiducia Per iniziare il suo gioco Sempre molto elaborato Con la fluidità Soprattutto sul lato destro Dove Odegod Ben White E Saka Si muovono Come una cosa sola Ormai Perché Sono sempre molto bravi A intercambiarsi Di posizione A volte Magari Addirittura Avers Viene a giocare Su quel lato Quindi si crea Anche un sovraccarico A livello Numerico E Ovviamente I primi 20 minuti Sono stati davvero Impressionanti Da parte Dell'Arsenal Perché il pain È stato in netta difficoltà Da quella parte Alfonso Davies Ha preso una munizione Molto presto Infatti io pensavo Che avrebbe poi sofferto A lungo andare Gli uno contro uno Con Saka Però poi così Non è stato Tra l'altro Era diffidato E quindi salterà La gara Di ritorno Esatto Un po' perché Saka Si è abbastanza Intestradito Nella giocantaria Individuale Nella ripresa Con la squadra sotto Un po' perché Dal 2 a 1 In poi Gnabris Sicuramente è stato Più bravo E più partecipe A livello di rifiagamento E poi anche Lime È stato fondamentale Per raddoppiare Su quella Su quella fascia Ci sono stati Quei due errori Gravi Che hanno Diciamo Dato Una risorsa Importante Al Bayern Per quantomeno Fare la partita Che Per forza di cose Doveva fare All'Emirates Quindi una partita Di contenimento Una partita più Di transizione E l'Arsenal Secondo me Nella prima parte Ci ha un po' Risentito Cioè è stato Un Arsenal Alla fine un po' Scorso Che non ha avuto La stessa brillantezza Iniziale Ha fatto più difficoltà A creare occasioni A sfondare Poi per assurdo La prima metà Del secondo tempo È stata una partita Pazza Dove la squadra Ha iniziato Ad allungarsi Cioè quest'anno L'Arsenal Si è allungato Pochissimo Invece A inizio ripresa Si è allungato Tante volte Il Bayern È riuscito A uscire Tante volte Dalla pressione A lanciare In diverse situazioni Sanè Per esempio In campo aperto A volte anche Gnabry A volte anche Musiala Che è andato Un po' A fasi alterne E ci è voluto Poi L'inserimento Di subentranti Per dare un po' Più di inerzia Positiva E riportare Un po' Più di controllo A questa squadra Io credo Tutto sommato Che alla fine Il risultato Sia giusto Chiaramente Ci sono state Delle polemiche A vitalio di mezzo Però Per quello Che ho visto Nel 90 Secondo me È un punteggio giusto Forse con più Rammarico Lato Arsenal Proprio perché I due gol Sono stati Ovviamente Dei regali Soprattutto Il primo Perché lì Raias Non ha alcun senso Che sia così alto Ok che devi dare L'opzione di passaggio Ma cazzo Stai 20 metri Più indietro Non addosso A Saliba Che lo metti Anche in difficoltà Per un detto passaggio Poi chiaramente Saliba È stato anche Colpevole Del fallo In aria Su Sané Che ha portato A rigore di Kane Sì Sané in quella azione Va detto che ha fatto Una cosa pazzesca Perché Conduzione Dribbling E quant'altro Comunque sono d'accordo con te Il pareggio Il pareggio ci sta È stato un Bayern Abbastanza passivo Che si è difeso Spesso sotto L'aliena della palla E poi ha provato A ripartire Sfruttando soprattutto Le abilità In campo aperto Delle sue ali Quindi Sané Gnabry Poi anche Coman Quando è entrato E hai fatto bene A parlare dei cambi Perché Gli ingressi Nell'intervallo Di Zinchenko Al posto di Kivior Che nel primo tempo Aveva fatto male Ha permesso All'Arsenal Di avere un po' più Controllo Forse Sicuramente Un po' più qualità Nello sviluppo centrale E poi soprattutto L'ingresso Vabbè Di Trossard Che ha segnato Ma soprattutto Quello di Gabriel Jesus Che Per carità Avers Da prima punta Si sbatte tantissimo Corre tanto In non possesso Presta da Dio Però poi Quando ha il pallone Nello stretto La qualità del brasiliano Rispetto a quella del tedesco Sono quasi due categorie diverse Cioè Gabriel Jesus Con tutti i suoi difetti Quando ha il pallone In spazi stretti Ti può far di tutto E l'azione Del gol di Trossard È qualcosa di meraviglioso Perché lui In area di rigore Con Quattro avversari In tre metri quadri Anzi In due metri quadri Riesce a gestire la palla E poi a servire Trossard Che gli arriva Quasi alle spalle Quindi non si so neanche Come l'abbia visto Una giocata Veramente pazzesca Io spero che a ritorno Parta titolare Perché è un giocatore così Queste partite Deve giocare dall'inizio Matte Sì Da aggiungere Magari c'è solo Come Per entrambi i casi Da una parte All'altra Fossero tutti Ste frecce Sulle fasce Che venivano attivati Poi da Da quei playmaker Di Odegaard Che praticamente Ha fatto Metà partita A giocare O in parte a Giorgini O sulla linea Dei centrali E mettere Ste palle Sopra 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 la testa Della difesa Del Bayern Per trovare Osaka White E poi Larsen Aggrediva E tante situazioni Sono andate Anche riaggredendo Sui interventi Difensivi Del Bayern Su queste palle Qui E d'altra parte Invece Kane Che ha fatto Un paio Di Un paio Di sventagliate A pulire E mandando La palla Da una parte All'altra Che sono stati Impressionanti Quindi Registi Che sono messi Che partono In posizioni diverse Finiscono in posizioni diverse Però Che hanno funzioni simili Per quanto riguarda Invece I goal del Bayern Sono state Letture sbagliate Letture sbagliate Diverse letture sbagliate Nella sensazione Che è una cosa Abbastanza insolita Per l'Arsenal Anche per Per Reis Poiché ha letto male Passaggio verso Goresca E quindi ha cercato Di chiudere la linea Invece che Andare a coprire A coprire Lo spazio Quindi I goal del Bayern Sono stati Di difficoltà A livello di difficoltà Molto alto A livello di Riproducibilità Molto basso Anche Anche Il rigore Che poi come è nata L'azione del rigore Con la giocata di Neuer Tutti hanno Preso il video Da dietro di Neuer Che alza la palla Ma hanno fatto vedere Il video di dove Finisce la palla di Neuer Perché la palla di Neuer Non è pulita Esatto Devono salvarla Sulla linea Poi Zaire Deve mettere una palla Avanti C'è un livello Di complessità Per salvare Quella palla Che non è Che non è scontata E quindi L'Arsenal Ha rischiato Di mandare Tutta l'area Sul 2-1 Quando magari Ci sono portati Un po' Troppo avanti Lì Pesa un po' L'inesperienza L'entusiasmo Del pubblico Magari Che cercava Di spingere La voglia Di buttarsi Avanti Lì Hanno rischiato Di perdere Poi L'ingresso Di Gabriel Gesù Sicuramente Cambia Perché In queste partite Qua Per questa capacità Di muoversi L'intelligenza Con cui Sfilarsi Dalla difesa Anche Palla al piede Non è magari Elegante Ma è sempre Questi tocchetti Qui Che Ti tolgono Riferimenti Difensori Come in occasione Il gol Però Il Bayern Ha un livello Di talento Che Fa sì Che possa Fare due gole Anche una partita Così E possa farne Altrettanti Anche una partita Del ritorno Aggiungo una cosa A margine Che In questo caso L'abbiamo detto Veramente Nella preview Registrata Ma non registrata Realmente E cioè Che queste due squadre Sono entrambe Fortissime Sui cross Da palla inattiva Infatti L'Arsenal è primo Per gol segnati Da palla inattiva Rigori esclusi In Premier League Il Bayern è primo Per gol segnati Da palla inattiva Rigori esclusi In Bundesliga Ha avuto più Situazioni di questo tipo L'Arsenal a favore Rispetto al Bayern E va detto che Il Bayern Ha difeso benissimo Forse c'è stato Un colpo di testa Di Gabriel Mi sembra A metà primo tempo Che poteva essere pericoloso Però in realtà Poi ha preso male Il pallone E più che mandarlo avanti L'ha mandato quasi Quasi indietro O di lato Ora sinceramente Non ricordo benissimo Però ecco Potevano essere situazioni Pericolose Ma in realtà Non lo sono state Per chiudere Vi faccio la stessa domanda Che vi ho fatto prima Cioè Chi è stato secondo voi Il migliore in campo Bella domanda Ha dovuto gestire E Kane Ha sostegnato Prima matto È stato un play Fondamentale Per la squadra Tra l'altro Non era neanche partito bene Perché Nei primi 15-20 Gabber Era riuscito Abbastanza bene A frustrarlo Comunque anticiparlo Dopo Quel passare Della partita Anche con l'esperienza Chiaramente È stato fenomenale Il prendere falli Sulla tra quarti Far respirare la squadra E poi ovviamente Sfilarsi Dalla linea E riuscire A pennellare Questi palloni In profondità O comunque Allargare Verso Verso le fasce Quindi Tanti nomi Io però Magari Tremio Odega Anche se è un risultato Che forse sta Va bene Alla fine Per l'Arsenal Perché non ha perso Però sta un po' stretto Probabilmente Perché Per la prima volta Da un po' Non so quanti anni Arrivava da favorita Probabilmente A ospitare il Bayern E quindi adesso In ottica di torno Si fa dura Perché comunque L'Allianz È uno stadio Molto caldo Il Bayern È una squadra Che in casa Fa sempre molta paura Vedremo Come andrà Come la preparerà Al Teta Sì Anche per me Odega Ha fatto una partita Per la centralità Che ha Anche per come Si spende Senza palla Quindi Poi Gabriel Gesù Se volessimo Gabriel Gesù È stato decisivo Perché Senza il suo ingresso Senza il suo modo Di entrare In una partita Chissà Potrebbe L'Arsenal Potrebbe Trovarsi di fronte A Una situazione Veramente difficile Quindi Magari Forse anche Gabriel Gesù Per me Più di Odega Nella gara di ritorno Oltre ad Alfonso Davis Che come dicevo prima Era diffidato Ed è stata monita Quindi non ci sarà Probabilmente Mancherà anche Gnabry Che si è infortunato E insomma Leggere I vari siti di news Non dovrebbe Farcela Per recuperare Per la gara di ritorno Che comunque Sarà super interessante E sarà anche difficile Scegliere Cosa guardare In diretta Tra Tra City Real E Bayern E Arsenal Matteo Ti ringraziamo tantissimo Per essere stato qui con noi Come sempre Vi ricordo di seguire Calcio Datato Su tutti i social In cui siete iscritti Di andare su CalcioDatato.com Ed iscrivervi Alla sua newsletter Pausa Che ogni settimana Vi porta Contenuti Super interessanti Nella vostra casella Di posta elettronica Come sempre Con tanti grafici Bellissimi Tante analisi Interessanti Grazie Matteo Alla prossima Grazie a voi Ciao ciao Passiamo alle gare Che si sono giocate Poco fa L'Atletico Madrid Ha vinto 2-1 Contro il Borussia Dortmund Con gol di Rodrigo De Paul E Samuelino Mentre nel Borussia Ha accorciato Le distanze L'81esimo All'Air In una gara In cui il BVB Ha avuto Molto possesso palla Ma ha creato Poco D'altra parte invece L'Atleti Ha sfruttato Un paio di errori In uscita E nei disimpegni Del Borussia E sicuramente È un buon vantaggio Per l'Atleti Ma al ritorno Si gioca A Dortmund E quindi Sarà tutto Da vedere L'altra partita Invece Il Barcellona Ha vinto 3-2 Fuori casa Contro il Paris In una partita Pazza Sicuramente Più pazza Molto più pazza Di quella giocata Si ieri Tra Real E City Di cui abbiamo parlato Poco fa E una partita Che a me Ha ricordato Un po' come Secondo me Tutte queste partite Con tanti gol In Champions Ma anche in Europa League E magari in Conference Dipendono Dal fatto che Ormai da qualche anno È stata abolita La regola dei gol Fuori casa Perché vedo Delle squadre Più propense Ad attaccare Con meno paura Di subire Magari nei prossimi giorni Farò un'analisi Statistica Perché secondo me È interessante Valutare Questo Perché insomma Quello che ho detto ora È più una sensazione Che è un qualcosa Di giustificato Dalla realtà In ogni caso Questa partita È successo Talmente tanto Che È meglio Andare con ordine Quindi Partiamo Dalle formazioni Da ciò che è successo Inizialmente Formazioni che Dalla parte di Luis Henry Che sono state Molto sorprendenti Perché C'era Kimi Squalificato Quindi per forza di cose Lui non poteva giocare C'erano Poi Alcune scelte Per esempio Kang Yingli E assenso titolari Che hanno sorpreso Di fatto Il Paris Giocava con Un modulo Sicuramente Ibrido Perché poi E ovviamente I giocatori in campo Si spostano Che però Possiamo Semplificare Con un 4-2-4 Che a volte diventava Un 3-2-5 In base alla posizione Di Nuno Mendes Che partiva da terzino Sinistro Quindi Inizialmente Stava più basso Ma poi Con lo svilupparsi L'azione Spesso e volentieri Si alzava C'erano Dembélé Che partiva Molto largo E molto alto A destra C'era Mbappé Che partiva Molto largo A sinistra E molto alto E al centro E al centro Dell'attacco C'erano Diciamo Kang Yingli E Asensio Che facevano Un po' Due falsi nove Perché ovviamente Non facevano Gli attaccanti Spesso e volentieri Si abbassavano E quindi Questa mossa È stata Molto sorprendente Perché Il pari Delle ultime settimane Invece Giocava con Dembélé Al centro E poi Mbappé Largo da una parte E un altro giocatore Di solito Barcolat Largo dall'altro In una sorta Di 4-3-1-2 Dove però Le due punte Stavano molto Molto larghe Infatti Questa scelta Secondo me Ha Legittimato La squadra Ad andare Ancora di più Dalle fasce È chiaro che Quando hai due mostri In isolamento Come Mbappé Dembélé Per forza di cose Pendi Verso l'esterno Però Credo che il pari Abbia poi avuto Una serie di difficoltà Nei momenti In cui Poteva attaccare In maniera Più consolidata Ad occupare l'area Ad arrivare Nell'area Con i tempi giusti Perché poi Tante volte Sfattura nel primo tempo In cui alla fine C'è stato Un maggior Equilibrio Anche se Già nei primi 20 minuti Abbiamo visto Non tanto Di ribaltamenti Di fronte Quanto più La volontà Di sfruttare A proprio vantaggio Il fatto che L'avversario Tenesse una linea Piuttosto alta E quando il pari Poi alla fine Riusciva Ad andare in isolamento Riusciva comunque A fare abbassare Il basso Secondo me Non c'era abbastanza Rapidità Nell'attaccare L'area E anche L'assenza Di presenza Fisica Cioè Non avere Giocatori Praticamente Strutturati Ti levava L'opzione Del cross Magari Avevi Le situazioni Di cutback Però In generale Mi sembra Che il basso Abbia gestito Abbastanza bene Queste situazioni Ripiegando Con ordine E poi a sua volta Cercando di Ribaltare il campo Di sfruttare Jamal A destra Di sfruttare Rafinha Più nell'attacco Della profondità Anche con un paio Di spizzate Di Lewandowski Che è stato bravo A gestire i duelli In questo senso Con Beraldo Che era il centrale Che tendeva ad uscire Maggiormente su di lui Visto che Malchinius Per l'occasione Ha fatto Il terzino Desso nel primo tempo Perché poi nel secondo Ha spostato Luca Hernandez In quel ruolo Come hai detto te È stato un PSG Fluido Perché in un possesso Chiaramente Avendo un Bappé Non lo puoi far Difendere Quindi La scelta di Lipson V Che è ripiegato Su Assensio Che aveva Lo scopo L'obbligo Di Tornare E coprire La zona del centro-sinistra Quindi avevamo Un Pari Che difendeva Con una sorta di 4-4-2 4-3-1-2 Perché magari Kanginli Si alzava in pressione Su Frenkie Che era il vertice basso Della squadra di Xavi E Il Bassa Ha fatto un po' fatica A sviluppare il gioco Centralmente all'inizio Però poi Riuscendo ad andare Maggiormente sulle corsie Quasi bypassandono Il centro-campo È riuscita A rendersi pericolosa E poi Quando è andato in vantaggio È riuscita maggiormente A consolidare il possesso E a settarsi Un po' di più Poi Nel secondo tempo Sono successe talmente Tante cose Talmente Tanti ribaltamenti Che è stata una partita Molto Divertente In questo senso E io Da spettatore Tra l'altro Legandomi anche A quanto ho visto Ieri Sono contento Perché È stato proprio bello Vedere Squadre Grandi partite Di Champions Con Delle ali Dribbloma Neoreesplosive Nello spazio Questo è un qualcosa Che Purtroppo Negli ultimi anni In Serie A Siamo stati Qualicchio ingozzati Di 3-5-2 Quindi magari Questi profili Che tentano il rischio Trovano la giocata Spesso e volentieri Non ci sono Anche magari per le questioni economiche Quindi questo è stato Rattificante Secondo me Sì è stata una partita Molto Molto divertente Dove le due squadre Non hanno avuto Il minimo controllo Con tanti Rivaltamenti Non tanto magari Di fronte Che per carità Ci sono state Quanto nel Nel momentum No Un certo momento Sembrava Che stessi facendo meglio Il Paris In un altro Il Barça Poi il Paris Poi il Barça Poi il Paris E così via Il Paris Sicuramente Nella ripresa È sceso in campo Meglio Anche perché È entrato Barcolà Al posto di Asensio E quindi Luis Enrique Ha un po' ridisegnato La sua squadra Oltre ovviamente Al cambio che dicevi te Cioè di mettere lui Luca Hernandez Sulla destra Anche se poi Ovviamente In fase Di possesso C'era una linea 3 Abbastanza evidente Con lui Sul centro-destra Marchinhos Centrale E Beraldo Sul centro-sinistra Ecco dicevo È entrato Barcolà Barcolà che È stato messo Largo a destra Con invece Dembélé A fare A fare Diciamo Il finto centro-avanti Assieme Assieme a Lee Con Dembélé Che giocava molto Su centro-sinistra E secondo me Questa posizione È stata molto pericolosa E nella prima parte Della ripresa Ha portato Dembélé Ad essere più coinvolto E poi naturalmente Anche a segnare Ma pure lo stesso Barcolà Secondo me È entrato bene in campo Ha dato più pericolosità E più vivacità A questa squadra E soprattutto Ha portato movimenti Senza palla Nello spazio Cioè ha attaccato La profondità Cosa che invece Il Paris Purtroppo per loro Nel primo tempo Faceva poco Eppure c'era la possibilità Di attaccare lo spazio Perché Perché il Barça Difendeva con la linea alta La linea del Barça Lavora mediamente bene Ormai da qualche mese Però Secondo me Bisognava provare Qualche pallone Nello spazio in più Soprattutto per Mbappé Che naturalmente Essendo così veloce E così bravo A muoversi Poteva essere più sfruttato In queste situazioni Il Paris Sembrava appunto In crescita Dopo Il pareggio E poi il gol Le vantaggio Ma I cambi Di Di Schavi Hanno poi Portato All'ennesimo ribaltamento Con l'ingresso Di Pedri Che I primi due tocchi Ha fatto stop E poi Quell'assist pazzesco Per Per il secondo gol Di Rafinha E poi anche Anche Christensen È entrato Qualche minuto dopo Ha segnato Di testa Da Da corner E nella parte finale Mi sarei aspettato Qualcosa in più Dal Paris Che invece Ho visto un po' Un po' troppo moscio E poco pericoloso Nel finale Quando invece Serviva Maggiore intensità E serviva soprattutto Creare più chance Perché Perché stava perdendo E perdere in casa Per quanto non sia devastante Come era qualche anno fa Quando c'era la regola Dei gol In trasferta È comunque pesante Diciamo che Da quel punto di vista Forse vale un po' Il discorso fatto Per l'Asna Cioè Questa è una squadra Alla fine Questo Paris Soprattutto È una squadra Giovane Con giocatori Un po' anche Lì in esperienza In certe posizioni Quindi era lecito Aspettarsi che Avrebbero avuto Un po' di difficoltà Non per questo Voglio dire Che il Basso Abbia tutta St'esperienza Cioè Ci sono Lewandowski Gondogan E Ter Stegen Magari Finisce un po' Lì alla fine Nei titolari Signi Ecco Ricordiamo che 2-2007 Tra l'altro Cubarsi Altra buonissima prova Yamalo un po' meno Magari ne parliamo meglio Però Ricordiamo che il Barca C'ha 2-2007 In campo Che sono titolari Indiscussi In una squadra Che forse Andrà in semifinale Di Champions Eh sì Questo fa Davvero impressione Come dato No Ci sta Anche che a livello Emotivo La squadra Fosse Forse un po' giù Però è vero Effettivamente Con la qualità A disposizione Si poteva fare Qualcosa in più Mi aspettavo Cioè Mi è davvero sorpreso La scelta Di non schierare Zerneri Fin dal primo minuto Secondo me Avrebbe dato Magari un po' Più qualità In mezzo E anche Portato delle incursioni In più Nello spazio Una situazione Per esempio Dove il Paris Secondo me È stato molto bravo Ad attaccare E riempire l'area È stata l'azione Del gol di Vitigna Con anche il Gran bel passaggio Nello spazio Di Fabian Ruiz Questa è stata Una bella azione Dove Il timing La capacità Di inserirsi Anche di creare Scompiglio In modo diverso Quindi non andando Per il gioco aereo O non andando Per le palle laterali Ma provando proprio A imbucare centralmente Ha fatto la differenza Poi ha sottolineato Molto bene L'ingresso di Barcolà Perché Secondo me Alla fine Nel primo tempo Ha gestito bene Dembélé Che tendeva a ricevere Un po' sulla figura E meno ad attaccare Lo spazio Barcolà era Uno che provava sempre A cercare il taglio dietro E questo magari Ha messo maggiormente In difficoltà Rafinha E Cancelo Che comunque Nel complesso Hanno dovuto abbastanza bene Secondo me Sì Difensivamente Mi ha sorpreso Nel primo tempo Come dicevi te Molto bene Su Dembélé Ha chiuso due o tre volte In uno contro uno Io pensavo che Il numero di volte In cui Cancelo Avrebbe chiuso Dembélé Sarebbe stato pari a zero Invece Invece L'ha tenuto Discretamente Però poi appunto Con Barcolà Che attaccava lo spazio Ha sofferto Ha sofferto molto di più In ogni caso Secondo me Tutti e quattro i difensori Del Barça Hanno fatto una Dischetta partita Credo che Il migliore sia stato Araujo Che nel primo tempo Ha aiutato varie volte Conde quando veniva puntato Da Mbappé E poi nella ripresa Ha fatto una gran chiusura Su Barcolà Mi sembra attorno Al settantesimo Dove Barcolà Era in anaria di rigore E stava per tirare Che altro dire Beh secondo me Il migliore in campo È stato Rafinha Perché Vabbè Ha segnato i due gol E questo naturalmente pesa Ma poi ha fatto una partita A tutto tondo Cioè Un giocatore che Quando nel primo tempo Il Barça Costruiva dal basso Difendeva basso E poi provava a ripartire Lui era sempre Assatanato Ad attaccare la profondità Ad attaccare lo spazio Sulla sinistra Era sempre Il giocatore più avanzato Assieme a Lewandowski E poi invece Quando il Barça Consolidava il possesso E attaccava quindi Contro la difesa schierata Del Pari Rafinha occupava Una posizione Molto molto centrale E varie volte Ha ricevuto Alle spalle Centrocampo Avversario Per poi Concludere Da fuori area Mi sembra Aveva fatto due o tre tiri Da fuori area Uno anche abbastanza pericoloso E parato A Donnarumma Tra l'altro Donnarumma Non si può dire Che abbia fatto Una bella partita Perché Ha Sofferto molto Nelle uscite Sia alte Sul corner Che quella Che quella Naturalmente Sul gol Dell'1-0 Di Rafinha In generale Mi sembra Un pari Che sui calci D'angolo Era veramente Poco organizzato Veramente poco Organizzato Perché sia Inizio gara Che poi Nel gol di Christensen Il Barca È stato Molto pericoloso Purtroppo Quello è Uno dei grandi Punti Debo Di Gigi Però Non sarei così Cattivo Nell'azione Del gol di Rafinha Perché Secondo me Comunque Anche rivedendolo La palla Che Yamal Ha messo D'esterno Era con i Contragiri Cioè Se non fosse Uscito lui Molto probabilmente Lewandowski Sarebbe Andato a calciare Di prima Intenzione Quindi Era una Sazione Un po' 50-50 Diciamo Che è stato Sfortunato Perché La palla La respinta È finita Sui piedi Di Rafinha Che Due cose Questi sono I suoi primi Due gol In Champions Questo è un dato Che mi ha sconvolto Perché Ero convinto Avesse segnato L'anno scorso E La seconda cosa È proprio Sempre in quella Ciscostanza In un primo momento Pensavo Avrebbe tirato Di sinistro Invece Poi è riuscito A coordinarsi Bene Di destro E a proposito Di coordinazione Vabbè Il gol di Dembélé È stato pazzesco Soprattutto perché Ha perso il piede D'appoggio Al momento del tiro Quindi Riuscire a dare Quella sassata Sotto la porta Di Sesega È ancora il più Impressionante Secondo me Tra l'altro Con la sua classica Finta Dove lui Sterza E poi Va sul sinistro Eh sì Tra l'altro L'ha fatto sul sinistro Però può farlo Anche all'opposto Cioè Tante volte L'ha fatto Anche all'opposto Perché Ricordiamo Il francese È un giocatore Ambidestro Che calcia E gioca E ugualmente bene Nessà col destro Che col sinistro Ora non ho i dati Sotto mano Però mi ricordo Ai tempi del Barca Che i gol di Dembélé Segnati col destro E quelli segnati Col sinistro Erano essenzialmente Dello stesso numero Cosa che Succede A ben pochi giocatori Al mondo Volevo Sottolineare Sempre nel Paris La ottima Secondo me Prova di Vitigna Che è vero Probabilmente Sarebbe Dovuto essere Espulso Per Per il secondo giallo Per un fallo Che ha fatto Al limite dell'area Se non ricordo male Su Lewandowski Però Per il resto Ha fatto una partita Solida Attenta Difensivamente Dove Doveva andare A uomo Su Gundogan E poi Tanta 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 Qualità In fase Di possesso Palla Non ha sbagliato Un passaggio 82 Su 82 Ha assistito Tre volte I suoi compagni Ha segnato Insomma Una partita Secondo me Di cui si è parlato Poco Sia Sia Su Prime Video Quando la stavano Commentando Che poi Anche sui social Quindi mi sembrava Mi sembrava giusto Citarla E poi volevo chiederti Un po' L'abbiamo toccato Qua e là Però non abbiamo Approfondito Come giudichi La prova Di Mbappé Secondo me Una sufficienza La può portare a casa Se non altro Anche per lo scatto In occasione Dei gol di Dembélé Perché Per lì La palla Sembrava Dovesse uscire Invece Ha fatto Quello sprint Negli ultimi Cinque metri È riuscito A respingere Addosso Alla Rauco E poi vabbè Il compagno Ha fatto il resto È stata una partita Difficile Perché Nel primo tempo Ha provato A ricevere Molto largo Sia a sinistra Che a destra In alcune circostanze A volte venendo Anche un po' Più centralmente Lasciando la corsia Nono Mendes Però non ha avuto Sempre quel guizzo Per andare Oltre l'uomo Non è riuscito A essere Così Impattante Anche se Inizio partita Sembrava potessero Essere più pericoloso Rientrando Per andare al tiro E secondo me La presenza Poi di Dembélé In zona più centrale Gli ha permesso Anche di essere Un po' Più mobile E avendo anche Barcolà Sul lato destro C'erano già Due giocatori Un po' A impegnare Sulle fasce La difesa Del Bassa Mi si è aspettato Forse qualche attacco Alla profondità In più Qualche attacco In zona centrale Perché come dicevi te Le linee del Bassa E le altre C'erano i presupposti Per farlo Però alla fine È un giocatore Che Pur non avendo Dei super guizzi È stato comunque Cercato abbastanza Spesso Della squadra Forse avrebbe potuto Anche ricevere Qualche Pallone in più In profondità Mi viene in mente Anche una Transizione Nel primo tempo Dove Vitigna Aveva tutto il corridoio Per servire Era lanciato Bregamento a rete Invece Invece Ha provato La conduzione centrale E poi è andato A calciare Da fuori aria Però nel complesso Io penso che Si possa dare Un 6 Alla prestazione Di Mbappé Così come Secondo me Si può dare Un 6 Alla prestazione Di Yamal Che A inizio gara Quando il Barca Subiva un po' La pressione Del Paris Lui era molto utile Per superare Questa pressione Cioè riceveva La palla Nella propria metà Campo E poi Con i suoi dribbling Con la sua bravura Nel guadagnare fallo Ci è riuscito Varie volte Il problema Secondo me Nella sua partita Che quando aveva Il pallone Nell'altra Quarta avversaria È stato molto impreciso Si è visto Come il suo essere Quasi esclusivamente Mancino Tante volte L'abbia limitato Cioè in diverse situazioni Secondo me Doveva andare sul destro E calciare O crossare Con quel piede lì Invece lui ha insistito Andare sul mancino Gli avversari lo sapevano E poi magari A sua volta È stato impreciso Nel cross O nel tiro Comunque vabbè Parliamo di 2007 Quindi queste sono Tutte critiche Per parlare Però ecco Mi sembrava giusto farlo Comunque vedremo Cosa succederà Al ritorno Martedì prossimo Dove il Barca Sarà senza Sergi Roberto Christensen Quindi vedremo un po' Cosa si inventerà Xavi a centrocampo Se magari metterà Petri titolare Se farà giocare Fermin titolare Insomma Non ha molte opzioni Quindi vedremo un po' Cosa farà Sicuramente Sarà una gara Molto molto interessante Noi ci risentiamo Tra sette giorni Dove magari Riabbracceremo anche Michele Tossani Se ha passato Il corso Per rinnovare Il patentino Io Per questa sera Saluto e ringrazio Ciao Sono Akpa Ciao Ciao a tutti E alla prossima Ciao 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 a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti